E' tempo di anniversari, amici miei, e stasera celebriamo un anniversario, un altro anniversario importante di Alessandro Fizzotti, che è il nostro uomo della radio, è il grande Alessandro Fizzotti del Fizz Show, di cui abbiamo parlato alcune settimane fa, e stasera parliamo di un'altra sua trasmissione che ha raggiunto i 15 anni e si intitola... 15 anni, Fizz in Love, dedicata appunto all'amore e ai sentimenti e alla vita di tutti i giorni. Insomma, una trasmissione che tra l'altro in un periodo come questo speriamo che possa servire tantissimo alla gente, insomma, che sia un servizio pubblico. Ma certo che in 15 anni tu attraverso il tuo Fizz in Love avrai visto una certa evoluzione forse dei costumi amorosi, avrai ascoltato la cronaca di quello che stava accadendo in Italia. Facci un po' una sintesi. Guarda Luciano, è interessante perché quando siamo partiti nel lontano 2007 abbiamo iniziato raccontando di quando ci si incontrava a ballare in discoteca e ci si conosceva magari nella piazza della città o addirittura a fare la spezza, voglio dire. Oggi invece, andando avanti ovviamente nel corso degli anni, sono nate queste famose app di incontri, quindi adesso l'incontro non è più a ballare. Quando si riprenderà poi a ballare, dico io, magari si comincerà anche a conoscersi. In questo momento è tutto chiuso, quindi al di là del ballo ci sono le app. App che ti danno in prossimità chi c'è da conoscere, chi non conoscere. Ci sono siti internet dedicati all'incontro. Sono nate anche tantissime storie d'amore, voglio dire anche sul web, non ci vedo niente di male. È un modo anche per fare avvicinare persone che non hanno la possibilità magari di conoscersi perché lavorano tutto il giorno, mi viene da pensare. Quindi l'unica ora che hanno di tempo è quando sono a letto, prima di coricarsi, due chiacchiere con questa persona da conoscere in ogni dove. E poi cosa è successo? E poi è arrivata la pandemia. È arrivata la pandemia e anche lì c'è stato un altro cambiamento. La paura del conoscersi, del conoscere l'altro, la paura del contatto umano proprio perché ha detto, oddio, è bella una persona meravigliosa, ma perché conoscerla rischio di prendermi il Covid. Cioè ci sono state nel corso di tutti questi anni una serie di mutazioni, no? Di cambiamenti veri, come vivere l'amore, come vivere la sessualità. Sono cambiate veramente le cose. E le persone possono aver perso anche la trebi, come si dice, no? Perché puoi immaginare uno che parte dalla discoteca, arriva alle app e poi c'è la pandemia. Cioè un vero e proprio, fammelo dire in parole proprio leggere, un puttanaio. Ecco, questo è. Però, diciamo, il modo di amare, nonostante si sia modificato, anche per via appunto della tecnologia, alla fine è sempre quello. Cioè il mi manchi, il muci muci cucci cucci, la coccolina e queste cose, ce le portiamo dalla notte dei tempi, no? Quindi queste cose non sono cambiate, non cambieranno mai. Probabilmente quello che abbiamo visto cambiare, io e gli esperti, che adesso poi ti elencherò, è appunto il modo di raffrontarsi, è del modo di parlare. Cioè si parla poco nella coppia. Questo è un difetto che abbiamo notato in tutti questi anni, no? Un po' l'avvento delle tecnologie che ti portano sempre a stare col capo coricato a vedere il cellulare, anche quando esci a cena con la tua amata o il tuo amato e perdi tempo, piuttosto che viverti un momento splendido che può essere stare insieme e viversi la vita. Dall'altro punto di vista, Luciano, notiamo come non c'è più quel bel dialogo che magari c'era una volta, si spegneva la televisione, si stava a tavola insieme, si chiacchierava, si parlava, no? C'erano discorsi che spaziavano dal lavoro all'amore e ai sentimenti a quello che ti succede in casa. Insomma, sono cambiate un po' le cose, è diventato tutto molto frullato, come dico io, tant'è vero che, come hai notato, sono aumentati i divorzi, sono aumentate le separazioni, questi amori durano poco. Adesso appena c'è una minima crisi, piuttosto che tentare di mettere a posto le cose, dici, ma no, guarda, lasciamoci e chi se ne frega. Questo è quello. Certo, e poi con la pandemia, il fatto di queste convivenze talvolta forzate tra le quattro pareti di casa, non è che hanno fatto... Non ha aiutato. Non ha assolutamente aiutato. In questi anni poi c'è stata anche la paura dell'AIDS, insomma ci sono state tante problematiche. Ma mi chiedevo, una trasmissione come la tua, forse si è anche prefissa il compito di fare un po' da educatore sessuale per le giovani generazioni, o no? Ma noi cerchiamo veramente di rispondere a tutto quello che ci arriva e ci arrivano veramente delle domande molte volte alle quali i miei esperti si rifiutano di rispondere perché ci sono cose che non vado a raccontare ovviamente al pubblico, ma potete immaginare il tono e parliamo appunto, come hai introdotto tu, della sfera legata alla sessualità, no? Anche lì arrivano cose stranissime e cose di cui non avevo mai sentito parlare, quindi è bello, voglio dire, che ci sia una scoperta che esiste un humus che non conosciamo anche sotto casa o vicino di casa, voglio dire, pratica cose strane, ma è forse meglio non sapere. La cosa che mi ha colpito è che comunque anche in questo caso c'è difficoltà, perché proprio nel discorso che ti facevo prima della poca parola, del poco dialogo, anche quando si parla di sessualità, in quel caso, proprio quando si arriva a conoscersi o si pensa di conoscersi davvero bene, alla fine l'altro non racconta il vero sé, cioè quello che vorrebbe davvero dalla propria amata o dal proprio amato, si risparmia, come se avesse paura di essere quello che è, per paura di ledere magari una situazione legata a propri sentimenti, per cui magari uno è un arrapatone pazzesco e davanti alla sua amata, che vede un po' più timidina, si tira indietro e dice no, io non sono così. Ecco un po' quello che abbiamo cercato di spiegare attraverso le parole di Antonio Casarico, che è il nostro androsessuologo, è proprio quello di parlare, parlare, la coppia si deve parlare, anche e soprattutto quando si parla di sessualità. Perché è fondamentale? Per capirsi, no? Vivere, amare e capirsi. C'era un testo di qualche anno fa di Willi Pasini che era proprio così. Perché è vero, facendo questo discorso, raccontandosi, ci si capisce meglio, ci si vive meglio e soprattutto forse si riesce anche a fare durare di più una relazione stanca, perché molte volte si parla di relazioni arrivate al capolinea, perché non si sa più che cosa raccontarsi. Io invece sono convinto che di cose da raccontarsi la vita ce ne offre tantissime. Bisogna solo imparare a rigenerare l'amore, che non è sicuramente semplice, ma ci sono tanti strumenti, secondo me, per aiutare e per aiutarsi a uscire fuori magari da un impasse Luciano che molte volte ci trova con una relazione stanca, no? E ci dispiace leggere di persone che vivono magari male un rapporto, per non parlare poi ovviamente in questi ultimi anni della violenza, per esempio, sulle donne di cui abbiamo sentito tanto parlare e che purtroppo costa la vita ogni anno a veramente centinaia di donne italiane ed è un dispiacere sentire che ancora oggi si muore per gelosia, si muore per cose assurde come queste, quando invece io dico sempre il rispetto prima di tutto finisce un amore o come si diceva una volta si chiude una porta, si aprirà un portone. ecco, per chi e per la persona appunto a cui si chiuderà una porta ragazzi lasciamo vivere le persone con le quali abbiamo avuto un rapporto meraviglioso, se ne costruirà un altro, cioè la vita è bella perché varia anche in questo caso, nel senso ci sono più conoscenze, chi è fortunato ha conosciuto la sua bella e il suo bello quando era al liceo per esempio e ancora oggi ci sta insieme, ma chi può essere fortunato anche chi a metà del proprio percorso invece ha conosciuto veramente l'amore della vita, quindi secondo me non c'è una stagione reale, la vita è una stagione completa, fatta di tante cose belle e purtroppo fatta anche di cose brutte, diciamo. Sì, ma come tu dicevi all'inizio di questa nostra chiacchierata, io ricordo, io sono un vecchietto per cui le mie stagioni d'amore cominciavano con le festicciole in casa tra adolescenti com'era bello il giradischi, il 45 giri, ci si ritrovava, era tutto più apparentemente più romantico. Poi i rapporti durano molto a lungo nel momento stesso in cui tu sai coniugare l'amore con una complicità vera con il tuo compagno o con la tua compagna, cioè sei innamorato, ti ami, però fai squadra e vi identificate in un obiettivo comune, invece come tu giustamente dicevi prima così al primo screzio e invece è bello avere uno screzio e poi cinque minuti dopo dire va bene e superare con il mio compagno molte volte mi piace perché dico con te non riesco a litigare per cui simuliamo una litigata proprio per far sì che dai litighiamo facciamolo apposta così ci divertiamo un attimo e poi facciamo pace e non riesco a litigare con lui neanche con me insomma quindi questa penso che sia una cosa meravigliosa però molte volte dico dai mandiamoci a quel paese dai facciamolo apposta che mi piace come dice sì ma è lo stesso lo stesso che facciamo con mia moglie che io tra l'altro quest'anno proprio farò i 50 anni di matrimonio per cui questo povera donna ecco la capito povera donna povera donna che mi sopporta però anch'io supporto lei però so che avete cambiato spesso servizi di piatti perché a casa tua volano ogni tanto quindi no 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 invece ce ne sono ce ne sono troppi la guerra di Simonelli dopo quella dei Rossi io volevo ricordare visto che questo piacevole collegamento parla proprio del fits in love volevo ricordare una cosa la trasmissione è una trasmissione nazionale andrà in onda su moltissime radio in tutta Italia la potrete veramente trovare in ogni dove basta digitare fits in love e sul web ci saranno tutte le radio che trasmetteranno questo programma sarà in onda dal 28 febbraio andrà in onda per tre mesi fino alla fine di maggio abbiamo un main sponsor d'eccellenza che ci segue che è l'acqua dell'elba che ha sposato questo progetto perché ci tiene a proprio fare radio di servizio questo nostro sponsor e lo ringraziamo e abbiamo poi tutta questa serie di persone che collaborano con noi che adesso ti vado a citare perché sono secondo me importanti ma sono loro poi l'anima come si dice di questo programma che sono la dottoressa Margherita Serpi che è una psicologa psicoterapeuta che è di stanza Milano il dottor Stefano Pieri uno psicologo molto legato al periodo adolescenziale quindi ai ragazzi dà una mano veramente a tutti ad uscire dal guscio la dottoressa Cinzia Altieri che è una pedagogista di Milano oltre che essere criminologa e grafologa del Tribunale di Milano ma ancora non finisce qui la dottoressa Maria Cristina Strocchi che ha scritto decine di libri dedicate proprio all'amore ai sentimenti all'autostima alle passioni così come anche il dottor Luca Saita che si collega con noi da Roma psicologo e psicoterapeuta il dottor Antonio Casarico di cui abbiamo parlato prima che è il nostro androssessologo e non finisce qui perché ciliegina sulla torta cito anche un giornalista un editorialista molto bravo uno scrittore molto bravo che è Flavio Pagano e che sarà con noi tre volte alla settimana per raccontare le frasi sull'amore e ce ne sono tante e da lì poi partiremo per una discussione legata a tante cose che andrà a partire dall'amore ma poi c'è tutta la sfera sessuale tutto il resto di cui si anche riderà perché io dico una cosa parliamo d'amore parliamo di sentimenti parliamo di tristezze ma parliamo anche di sorrisi Luciano perché è così bello ridere è così bello parlare di cose belle e non solo di cose nefaste visto i due anni che abbiamo passato e Fizzing Love vuole essere questo vuole essere la luce in fondo al tunnel per tutti i nostri radioascoltatori per chi sta vivendo un periodo buio è il momento davvero di uscire dal tunnel e vivere la vita è una sola viviamo la fine in fondo e godiamo della nostra vita e delle persone che stanno intorno a noi Luciano noi ci conosciamo da anni e possiamo dire che ci vogliamo bene siamo come lo zio e il nipote in questi anni per cui alla fine abbiamo imparato a conoscerci abbiamo avuto screzzi ma il bello delle amicizie secondo me è proprio questo un'amicizia è fatta di tante cose è fatta di sorrisi è fatta di litigate ma l'importante è rispettarsi che sia amore che sia amicizia e che sia la vita e poi l'importante autoironia che si coniuga con l'ironia cioè non prendersi mai troppo sul serio sul serio bravo e invece in questi anni incontriamo troppa gente che si prende veramente sul serio insomma purtroppo guarda mi viene da dire che la pandemia ha insegnato anche questo abbiamo visto cose di cui rabbrividire personaggi che parlano di sapere cose quando invece hanno studiato tutt'altro o anche politici politici che hanno insegnato poco agli italiani quando invece lo dovrebbero essere un po' persone da cui trarre e dire ma guarda l'ho messo lì io e proprio bravo ecco in realtà l'abbiamo visto anche con l'elezione capo dello stato voglio dire siamo stati veramente tristarelli da vedere per chi ci guarda soprattutto dall'esterno e che vede un paese ancora molto vecchio a me dispiace abbiamo una nazione meravigliosa un paese fantastico viviamo in un posto veramente siamo la culla dell'umanità eppure nonostante questo purtroppo siamo popolati male io dico sempre che l'Italia è un paese meraviglioso peccato gli italiani sì ma gli italiani con il loro individualismo esasperato non hanno molti di di noi non hanno ancora capito che si può rimanere con il proprio individualismo però riuscendo a fare squadra e a valorizzare i talenti che ci sono intorno a noi anziché cercare se tu pensi se tu pensi di azzettire chi ha qualcosa da dire esatto se pensi la storia che siamo il paese che siamo quello che abbiamo raccontato quello che speriamo racconteremo ancora voglio dire cioè dovremmo essere veramente fieri di essere italiani e fieri di vivere in un paese come questo di non essere andati da qualche altra parte cioè tenere duro stoici come Luciano Simonelli ha fatto l'editore stoicamente voglio dire in questo paese noi facciamo la radio stoicamente con le mille difficoltà però ci piace fare qualcosa di costruttivo ecco il messaggio è cerchiamo di fare sempre qualcosa di buono di bello da ascoltare ma soprattutto che possa essere costruttivo per le persone che ci seguono questo per me è fondamentale ed è un po' la via da seguire per il resto di quella che sarà la mia povera e piccola vita insomma certo certo allora senti riassumiamo la trasmissione riparte il 28 di febbraio e va in onda tutti i giorni tutti i giorni da lunedì al venerdì saremo ovunque voi siate saremo in onda in FM in DAB sul web praticamente ci trovate ovunque diamo l'opportunità guarda io sono felice perché in questi anni tanti editori hanno sposato questo programma proprio perché hanno capito che è importante informare le persone sui temi che fanno la vita di tutti i giorni proprio perché parliamo di quello che viviamo tutti i giorni dal lavoro all'amore ai sentimenti alle passioni alle trambate a tutto quello insomma che fa parte della vita ecco io credo che un programma come questo unico nel suo genere diciamo perché è fatto da esperti ed è fatto dal pubblico quindi non è che ci inventiamo la posta del cuore rispondiamo io non avrei neanche la forza di rispondere ma abbiamo gente competente che risponde ai radioscoltatori e credo che questo sia veramente una grande cosa è un grande servizio che riusciamo a fare grazie alla pazienza anche di questi personaggi che collaborano con noi ormai da 15 anni Luciano quindi grazie un plauso a loro per la forza che ci danno e lo spazio che ci dedicano tutti i giorni certo e un plauso a tutti noi ognuno di noi crede veramente in quello che fa non ci sopravvive con quello che fa però porta avanti un discorso e e da un un messaggio di creatività e e da un messaggio serio perché noi siamo siamo competenti non facciamo parte della squadra dei nati imparati no? ah bravo Luciano bravo io guarda devo dire che sono perciutto tantissimo a fare la radio e anche programmi come questo mi hanno insegnato anche a cogliere la vita nelle sue sfumature forse è una delle cose più difficili da fare nel corso della vita ma si impara si impara ascoltando ascoltando gli altri ascoltando le storie degli altri e ascoltando gente che ne sa più di noi questo assolutamente sì io ringrazio Luciano Simonelli salotto delle idee di Luciano Simonelli per averci dato questo spazio averci dato l'opportunità di raccontarci e soprattutto di raccontare le idee che sono quelle che molte volte mancano ma ne abbiamo tante da vendere grazie Luciano e io ringrazio Alessandro Fizzotti per tutto quello che fa nella comunicazione radiofonica che ha tanti ma tanti spettatori credo che siamo vicini quasi al milioncino dei radioascoltatori per cui Fizz Show e Fizz in Love in Love grazie e Fizz in Love dal 28 di febbraio non dimenticatelo dal 28 di febbraio arrivederci amici amici